Ben trovati al meteo. Dopo un inizio di settimana assegnato dalla pioggia, torna l'alta pressione e migliora dunque il tempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 16 febbraio ci mostra un contesto buono. Durante la mattinata aumento della nuvolosità con qualche foschia, a seguire cielo via via più sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra meno 1 e 3 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche addensamento con isolati piovaschi sui rilievi al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9 e 10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato, solo con qualche isolato annuvolamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno a meno 3 e meno 2 gradi, massime sui 9 e 10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Grazie a tutti.